17 ottobre 2017, giorno della scomparsa di Peppino Massa, un giocatore che fu molto amato a cavallo tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta dai tifosi della Lazio per la sua fantasia offensiva e la capacità di risolvere partite importanti. Curiosamente Massa condivide con Chinaglia la provenienza. A proda la Lazio dall'Inter-Napoli, esattamente come il Bomber, con la Lazio collezionerà 137 presenze e 31 gol. Stagione d'oro la 1971-72, quella del ritorno in Serie A, in cui realizzerà 12 gol e formerà proprio con Chinaglia una formidabile coppia offensiva, sfornando assist a ripetizione per il compagno di squadra. Per questo in estate procurerà delusione la sua cessione all'Inter, pur a condizioni favorevoli per la Lazio che dalla sua partenza ricaverà 300 milioni di lire e l'arrivo di Mario Frustalupi, tassello imprescindibile della squadra dello Scudetto.